Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai ASMA Finalmente creatura, sono riuscita a portarti il video, quello non è un video ma è il video è il video perché sono davvero soddisfatta perché sono riuscita a realizzare il video del mercato quello che volevo fare da tanto, 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 tanto tempo ovvero c'è stata una bellissima giornata, caldissima, poi sono uscita a registrare dentro la bancarella quindi spirciamo insieme, cerchiamo insieme i capi e in prima persona, perché sto riprendendo io ovviamente, perché sono da sola come tutte le volte poi sono riuscita a trovare delle cose belle a pochissimo quindi le guardiamo insieme adesso nell'hull e in più anche le proverò con te creatura quindi da lì vedremo se abbiamo fatto dei buoni acquisti oppure se sono state delle fregature comunque per il prezzo se proprio recupero i bottoni spoiler, anticipazione, una cosa nei miei pensieri l'80% di possibilità che non mi vada bene però per il prezzo che l'ho pagato me la sono rischiata un'altra cosa che secondo me stavolta ci ho preso un superdoppi e un'altra cosa che non ti aspetti che avrei magari letto dal titolo che era... penso di aver già deciso il titolo in base a questa cosa che ho comprato che io potrebbe... stavi bene quando l'hai acquistata se sicura però dobbiamo provare anche insieme bisogna un po' buttarsi nella vita quindi direi già di partire con l'hull e intanto anche a lato da qualche parte dei grossi di qua metterò anche i pezzi del mercato lì adesso li dovrò doppiare strada facendo perchè adesso non mi ricordo perché ho fatto tanti video all'inizio volevo quasi farti una specie di vlog ma quello si può fare anche la prossima volta dove entravamo insieme nel mercato guardavamo le bancherelle invece dopo siccome se... cioè o faccio il video o compro capito? perchè lì c'è proprio da sgomitare tra le signore quindi ho preferito in base a quello che trovavo nella bancherella se trovavo cose carine allora riprendevo che così dimostravo man mano gli acquisti ecco ho pensato di far così però alla fine ho mostrato anche i bancarelle dove non ho comprato niente perchè c'erano delle ciabatte scarpe a 3 euro o 7 euro cose strane e li ho filmato anche se non ho comprato nulla perchè volevo troppo mostrarte ormai eravamo al mercato insieme e ho deciso così insomma di mostrarti anche altro quindi è un po' anche un vlog c'è un po' di tutto in questo video cioè è il video ho riempito lo zaino lo zaino nuovo del mio compleanno bello pieno, bello carico vado in ordine con gli acquisti così ho anche i video in ordine in base a proprio come ho acquistato queste cose cronologicamente ok allora c'era... mi devo spostare lato beh mi edito in fase di editing mi sposto allora c'erano i jeans a 2 euro e c'erano anche di marca infatti dovrei avere la clip dove mostro che c'erano anche lì cioè della marca LLE L-E-E e se non sbaglio non Levis a volte ho trovato anche Levis lì e... allora se hai visto l'altro video creatura se no se non l'hai visto via vederlo ho preso dei jeans neri bellissimi a 1 euro non riesco a portarli sono troppo a vita bassa mi sento troppo scoperta sono bellissimi ma sono importabili per me importabili e non riesco a portarli perchè veramente come mi piego mi si vede anche l'anima ok non ho troppo disagio non riesco a metterli in peccato perchè erano bellissimi ma questi... questi sono belli anche questi semplicissimi neri 88 per 100 cotone questa marca non la conosco normali normali neri a sigaretta li andrò a provare e... e... allora questi li ho già provati e... mi stanno come vuoi vedere dove... dove sono come vuoi vedere mi stanno perfetti e... finalmente un paio non... non c'era scritto la taglia li ho misurati come un cinese mi ha insegnato in un negozio non pensavo fosse reale questa cosa praticamente mi ha insegnato di misurare così perchè alle bancarelle non si può... non si possono provare i pantaloni eh... a meno che tu non sia non so... ingoneo in pantaloni ginecordi che te li metti sopra oppure se è una felpa o una maglia te la puoi provare ma i pantaloni non è che ti fanno entrare dentro al furgone e ti fanno provare le cose ecco cioè se devi provarteli lì senza pudore davanti a tutti in strada neanche no allora c'è questa tecnica bisogna tenere il pugno infilare tutto il braccio con gomito e pugno dentro i pantaloni adesso io sono scomodissima e non ci sto se sta dentro tutto il braccio in modo comodo comunque che... cioè se riesci a stare dentro il divanno è la tua taglia ed io ho fatto così oggi e mi vanno questi cioè top non sono a vita alta non sono né a vita alta né a vita bassa cioè non sono come gli altri cioè se mi piego non mi si vede l'anima e quindi dopo questi li metto sono anche belli morbidi 2 euro un buonissimo prezzo perché in tutte le altre bancherelle i jeans costano di solito dai 5 euro in su anche usati non hanno difetti quindi ho già controllato la cerniera tutto la cerniera IKK che è una marca famosa che è anche la Benetton e anche altri marchi insomma una buona cerniera quindi direi direi che come primo acquisto è andato molto bene finalmente questi me li metterò subito domani già stavo quasi per dimenticarlo ho fatto un acquisto di una cosa che vabbè dopo vedrai nella stessa bancherella dove avevo acquistato se ti ricordi quella camicia bellissima con la riera chiara con tutti i fiori rossi tipo roselline quella camicia super aesthetic wow bellissima a 50 centesimi avevano un sacco di cose a 50 centesimi e mi sono comprata allora solito regalino per mio papà questa t-shirt rossa con scritto non si è scritto senza occhiali non vedo niente tutte le c'è New York City e altre parole leggetelo non riesco senza occhiali ecco bel tessuto XXL lei mi aveva chiesto una t-shirt comoda per l'estate l'ho preso questa seconda centesimi poi ho preso quella la t-shirt non me la provo perchè non è per me poi ho preso un vestito che secondo me 80% non mi va però non lo so lo proviamo insieme perchè questo non l'ho provato però sono ho la panza ok ho un bel davanzale attualmente però sono lievitato tutto come una pagnotta quindi qua non c'era la taglia non sono riuscita a capire la taglia c'è un 170 che non ho capito cos'è sto 170 io sono un metro 73 quindi ho detto se è l'altezza mi va il problema è che non so se mi va di panza ok ecco detta proprio fuori dai denti come papale papale il vestito è molto carino l'ho comprato perchè anche se non ero sicura della taglia però l'ho pagato 50 centesimi quindi ho detto vabbè se proprio proprio lo regalo mi piacciono le cose coi fiori si mi piacciono le cose coi fiori è nero tutto tipo di pizzo con le maniche trasparenti con dei fiori non credo siano delle rose credo siano dei fiori si fiori qualsiasi non so che fiori queste sono le maniche a tre quarti e poi c'è la gonna così che credo sia sopra il ginocchio ma adesso andiamo a provarla insieme farò un commento voice over perchè non ho idea se mi sta bene quindi farò sia la faccia no così farò sia la faccia sono la ecate del futuro sto editando il video e mi sono accorto appunto che ho messa chiappa fuori non mi ero sistemata bene il vestito non me ne sono cioè non lascio questo video perchè va troppo ridere cioè top che ho messa chiappa fuori ma ciao allora io adesso non lo so ancora non l'ho provato quindi onestamente non ho idea se mi stia bene o no quindi farò due facce e poi dopo metterò il voice over quindi metterò la faccia sì bellissima mi sta proprio bene ottimo a fare spero mi vada bene perchè mi piace tanto un bel vestitino ultimo da centesimi carino non troppo frufru anche se poi dopo che ora tu non sei pronta a ciò che vedrai non hai proprio idea di cosa sia successo neanch'io neanch'io ho idea di cosa sia successo oggi ma è andata così e facciamocene una ragione poi ho preso una cosa sempre a 50 centesimi che è troppo stile ehm ehm the craft troppo stile gotico anni 90 troppo stile baffi la mazza vampiri anni tra i fine anni 80 inizio anni 90 versione però stile gotico non so dirti se è a ceniglia o velluto credo velluto ed è una camicia ovviamente a 50 centesimi ormai è tradizione che mi comprò ogni martedì una camicia tra un po' aprirò un negozio di camicie tutto mio e la marca è Barisal Barisal non ho mai sentito non ho mai sentito ed è questa camicia che non si vede come al solito nero su nero ma tanto poi dopo andrò in terrazzo a provarmi andrò sulla terrazza a provarmi i capi quindi sperando che di nuovo non venga intercettata dalla vicina perché l'altra volta non lo sai ma io ero lì che mi provavo le cose e la vicina è uscita a guardarmi anche cosa stai facendo quello di lì ehi cazzini però già capite va bene e quindi niente dopo magari alla luce lo vediamo meglio insieme l'idea è quella di indossarla aperta e magari anche sopra qualche vestito o comunque mantenendo perché ci sono delle cose magari che sono stravaganti strane io ho sempre fatto così c'erano le ragazze che si compravano i negozi quelli appositi come Killstar che adesso va di moda che tutte comprano lì perché pensano di essere gotiche perché si prendono le cose perché c'è scritto che sono cose dark in realtà le vere dark e ghost e black metal va visto la black metal però prendono delle cose che piacciono stile gotico non perché qualcuno ha messo un'etichetta e ha scritto che quello è gotico e poi le appinano insieme e questa è una di quelle cose quindi io mi sono immaginata un vestitino così che ne ho gotico cos'è? e poi questa aperta mi piace l'idea perché appunto è semi trasparente di velluto nera molto anni 90 secondo me tra l'altro anche le le spalline quelle tipo ogni 80 imbottite fa molto baffi la mazza vampiria poi il tessuto mi piace molto al tatto quindi ma andiamo a provarlo insieme anch'io per la prima volta vedrò lo andrò a indossare per la prima volta vediamo come mi sta magari lo provo dopo aver provato il vestitino così vi faccio vedere la mia idea sempre se il vestitino mi va comunque l'idea appunto di metterla aperta sopra su un vestitino che dà quello stile un po' anni 90 e craft non so se hai visto il film quello con tutte le streghe no? mi sembra anche più lunga dietro e davanti più corta quindi fa quell'effetto che avevo pensato io speriamo di si creatura sono arrivato ad una mancherella dove avevano tutte cose 2 euro e mi sono ritrovata una maglia dei Lamb of God che ero lì tipo ecca te non comprarla ecca te non comprarla ecca te non comprarla mi ripetevo questo mantra perchè devi sapere che io avevo una mega collezione di t-shirt di band una parte l'ho venduta una parte ho fatto delle mystery box tempo fa le ho vendute ne ho ancora un sacco e da un lato vorrei disfarmene perchè devo purtroppo abbandonare quello stile se voglio integrarmi nella società ma dall'altro tutta la mia collezione di t-shirt metal mi piange il cuore darle via le ho già date via comunque avevo un sacco di velpe anche cioè le avevo proprio le collezionavo negli anni ne avevo tantissime poi ho visto quella lì a 2 euro e ho detto no ti prego non comprarla e quindi ho detto vabbè non compriamola poi però stavo col telefono stavo facendo un video della della pancherella di quello che c'era e ho visto questa maglia e ho detto no perchè l'ho vista con tanto di scontrino io in realtà avevo lo scontrino anche per le altre cose però comunque ho ripreso proprio il prezzo la pancherella e le cose sopra la pancherella quindi più di così cioè più prove di così oltre che lo scontrino vabbè si ce le ho anche è che non so mai se si vede qualcosa stai vedendo la clip forse finché te lo racconto non lo so originale cioè per 2 euro come potevo lasciarla lì? cioè io ho detto tu vieni a casa con me io ti desidero troppo io vado al mercatino a prendermi i vestiti per non indossare queste cose poi me le trovo lì a 2 euro e dico porca miseria tra l'altro è palesemente nuova e se la tipa che se l'hai comprata non se la sarà missa neanche una volta neanche il giorno che l'ha comprata penso o è un rimasuglio di qualche pancherella dei concerti perchè è di un concerto questo è di un tour del 2019 quindi penso di aver comprato il ricordo di qualcuno ma non importa che era dannatamente originale con tutti questi dettagli queste qua costano tantissimo quando doveva comprare di sicuro da 2 euro mi dispiace l'ho comprata lo so non dovevo ma mi dispiace non so che altro dire è stato più forte di me e tanto che non ho neanche preso quella del Lame of God soprattutto pantaloni neri nuovi e questa devo uscirci sono andata a pagare poi sono tornata indietro e ho visto questa questa qui e ho detto no basta ecco a te non comprare più c'era un bellissima ma andavano un sacco di moda quando ero io più giovane adolescente queste maglie qua ma anche non solo adolescente questi qua con questi scheletri la morte tutte quelle cose lì molto allegre ingiuiose e ho detto no basta scappo devo andarmene devo fuggire da qui se no me ne compro altre e quindi basta sono andata via ma poi ho fatto un po' di riprese appunto come potrei vedere delle scarpe strane e altre cose hanno attirato la mia attenzione queste infradito molto particolari poi qua ho fatto una carellata di scarpe qui poi c'erano delle ciabatte barra pappucce tutte insieme a 3 euro infradito ciabatte da stiva insomma ecco e anche pappucce di diverse marche qua puoi vedere appunto ti mostro anche le spadriglias eh sì la stessa banca era dove ho preso le mie spadriglias nere sempre a 3 euro se non ricordo male ci sono queste perletti oppure qui ti mostro non so questa che marca sia da sola poverina set Carrera so che è una marca famosa e poi i perletti ok ok ci sono anche i pappucce e poi ci sono le spadriglias di fosse anche poi ho trovato un'altra bancherella con le cose a 2 euro cose a 2 euro e c'era un po' di roba di sheen e altre marche così ho guardato un po' qua un po' là e poi così c'era un vestito giallo se non sbaglia dovrebbe comparire qua da qualche parte carino ma era gigante poi aveva troppo aperto qui già se è largo se è in più aperto si vede tutto no non me lo metto e e poi ho visto questo vestito e ho detto lo prendo o non lo prendo lo prendo o non lo prendo lo prendo o non lo prendo per 2 euro e l'ho preso ho preso il vestito da principessa letteralmente perchè è tipo lunghissimo non so se mi va bene quindi dobbiamo provarlo insieme ma soprattutto era sheen ma l'hanno strappato strappano l'etichetta non so perchè alcuni hanno l'etichetta altri no non so dovrebbe essere lungo fino ai piedi teoria l'ho provato solo appoggiandomelo qua ed è proprio rosa sotto elasticizzato tutto sopra tutto questo pizzo e adesso andrò a indossarlo per te e per me per sapere se mi va davvero se mi sta bene tutto sono più certa a ipotesi che mi vada meglio questo che l'altro perchè questo è un modo più grande elasticizzato invece l'altro però non lo so tu l'hai già visto io no quindi tu puoi saperlo tu hai già visto il video futuro io devo ancora girarle quelle perchè prima sto girando questo video e poi andrò a provarlo tranne i pantaloni che avevo già provato perchè mio papà li ha visti e ha detto ah no te li fanno bene a me perchè li voleva lui ero messi sotto gli ho fatto tutto il gesto dell'ombrello mi sono perfetti alla faccia tua che li volevi così per scassare lui rideva e quindi niente per quello quelli li ho provati perchè non è che voleva rubarmi il vestito della principezza sono una bellissima prinsipezza ah no amon amon e quindi e quindi adesso dopo andrò a fare tutte le clip dove mi sperando che i vicini non mi rompano e anche se mi rompono chi se ne frega sto iniziando a fregarmene sono molto contenta di essere riuscita a fare le riprese anche al mercato se fossi in te io metterei like solo per il coraggio che ho affrontato le mie ansie di la gente che mi osserva con il telefono è molto più facile perchè alla gente non interessa se stai filmando perchè non se ne accorge secondo me pensano che stai leggendo un messaggio non lo so anche se io palesemente stavo facendo così ero palese che stessi riprendendo però dettagli e secondo me ho fatto dei buoni acquisti questa volta specialmente quei jeans perchè gli altri sono rimasti troppo male che non sono uscita non riesco proprio a portarli non mi sento a mio agio e quindi se non mi sento a mio agio lascio stare non voglio uscire con l'ansia del... cioè non è l'ansia che è un disagio di mostrare troppo corpo ok lo so che sto facendo tutto il percorso però voglio fare anche con i miei cioè non so come non so come spiegarlo mantenendo un certo stile ecco non è che devo per forza mostrare tutto ok non so se mi sono spiegato e secondo me questo da principessa è super aesthetic e vorrei abbinarci dei degli accessori dark così perchè vorrei fare una cosa tipo creepy cute tipo qualche joker o quella cosa che ho che non mi ricordo come si chiamano quella specie di cintura che avevo messo in quell'abito bianco l'anno scorso e oppure boh vediamo anche se trovo qualcosa di nuovo su tashin qualche altro accessorio da abbinarci magari fammelo sapere nei commenti anche perchè tu l'hai già visto indossato io no ci sono solo delle ipotesi di outfit particolari che vorrei fare con questo vestito e molto aesthetic comunque mi piace al su perchè secondo me ho combinato con gli accessori giusti con lo stile giusto non solo principesco gne gne ok spero che questo video ti sia piaciuta io ti auguro buonanotte 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 ciao creatura buonanotte buonanotte buonanotte